Amici 2023, anticipazioni 25 marzo, waxing con Aaron, cricca a rischio eliminazione. L'appuntamento con il serale di Amici 2023 torna in onda sabato 25 marzo in prime time su canale 5 con la seconda delle nove puntate di questa 22esima edizione. Una serata che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena per i concorrenti protagonisti del talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi. Non si esclude che al termine della serata possano esserci due nuove eliminazioni definitive dal cast di questa edizione, che ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista Auditel. Le anticipazioni riguardanti la seconda puntata del serale di Amici 2023 di sabato 25 marzo rivelano che ci sarà spazio per una nuova sfida diretta tra due cantanti di quest'anno. A richiederla è stato il profru di Zerbi, che ha scelto di mettere in sfida wax contro Aaron. Il prof Zerbi, nell'annunciare il guanto di sfida richiesto per questa seconda puntata dello show, non ha risparmiato un elenco di regole da seguire. Puoi scrivere le barre, non puoi avere oggetti in scena o vestiti particolari. Ma potrai usare l'autotune e sarai libero di muoverti sul palco perché a quanto pare devi per forza fare il mimo per esprimerti. Ha dichiarato Zerbi senza risparmiare una frecciatina nei confronti di wax. Chi vincerà la sfida tra i due cantanti? Resta da capire, invece, quante saranno le eliminazioni definitive di questa seconda puntata del serale. Ma non si esclude che possano essere due gli allievi a dover abbandonare lo show al termine della registrazione di questa settimana. Intanto, al momento, tra i concorrenti maggiormente a rischio spicca cricca del team guidato da Lorella Cuccarini e Di Maniolo. Che a oggi risulta uno dei meno quotati di questa ventiduesima edizione dello show Mediaset. In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto finale della giuria di Amici 2023 al termine della seconda puntata del 25 marzo. Gli ascolti del debutto sono stati a dir poco trionfanti per Maria De Filippi. Più di 4 milioni di spettatori hanno seguito la prima puntata di quest'anno, pari a uno share che ha sfiorato il muro del 28%. Con picchi di oltre il 33% e 5 milioni e mezzo di spettatori. Un grande trionfo per la trasmissione di Canale 5, che con questi risultati d'ascolto si è confermata leader indiscussa del Prime Time, battendo nettamente la concorrenza Rai. Per il e di bun simt, se ridica staggeta, liric vorbinta, ajunga la ea doar nasta cu racheta. S'o admire nave spaziale de pe Andromeda, asta-i celul, il execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude, dumele tante printre talea culte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima, deodată nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine, fie egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? 3, 2, 3